Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per un nuovo e incredibile What If? Una nuova storia alternativa del mondo di Dragon Ball Super. Ragazzi, cosa accadrebbe se Goku si allenasse con il Daishinkan, con il nostro Gran Sacerdote? Lo andremo a scoprire oggi in questo episodio What If? In questa storia alternativa, o forse un giorno chi lo sa, Goku verrà davvero allenato dal Gran Sacerdote? Dal Zeno? Beh, vedremo. In ogni caso, buttiamoci subito nel What If. Ed eccoci finalmente alla selezione del personaggio. Come sempre vi ricordo di vedere l'episodio di Dragon Ball AF uscito qualche giorno fa. Abbiamo svelato le origini di Ardos, purtroppo non sono andati feed, ma non è un problema. Recuperatelo, ve lo lascio come sempre nelle schede. E se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace adesso, superiamo i 5000 like se volete dei nuovi What If. Vi voglio davvero carichi al massimo. Ma inizio subito a spiegarvi cosa sta succedendo in questo What If. Praticamente, in una delle volte che Goku ha incontrato Zeno, Goku gli ha chiesto una sfida, una battaglia. Zeno, per quanto fosse leggermente scettico, è molto giocherellone, per quanto noi sappiamo, e decide quindi di sì, sfidare praticamente Goku. Come se fosse, ecco, una semplice battaglia per divertirsi, quindi non per eliminare l'avversario. Anche se bisogna dire questa cosa, Zeno deve stare attento con i suoi poteri, poiché potrebbe cancellare dalla faccia dell'esistenza tutto quello che riguarda Goku, il suo pianeta. Quindi bisogna stare molto attenti. Quindi andiamo a scegliere lui, e andiamo a sfidare Goku in una versione, ecco qui, alquanto in HD. Sì, davvero potentissimo, e Goku inizia chiaramente in questa forma normale. Come al solito, Goku tenta, in tutti i modi appunto, di studiare quello che è il proprio avversario, e lo andiamo a fare qui, su questo ring. Come al solito, le guardie, ma anche il gran sacerdote, vanno a creare una sorta di piccolo ring, in cui far affrontare i due combattenti, il primo che esce fuori viene chiaramente espulso, però non credo che questo accadrà in maniera molto semplice. Vi faccio notare da subito Zeno, guardate quanto è piccolino, ma molto molto figo. Non so da chi provenga il suo moveset, ad essere sincero. Magari scrivetemelo voi nei commenti, e andiamo a vedere le mosse. Voglio vedere quanti di voi indovinano le sue mosse Strike of Revelation. Ok, questa io l'ho già capita. Vediamo se avete indovinato di chi è. Poi, Prelude to Destruction, che dovrebbe essere preludio alla distruzione. Sono tutte mosse divine. Ah, ragazzi, so chi sono. Poi abbiamo, vediamo un po', una ricarica, che ecco la divinità rilasciata, nemmeno mi ricordo in italiano com'è, il gioco ce l'ho in inglese da davvero tanto tempo, mentre Goku addirittura attende la ricarica di Zeno affinché egli possa esprimere tutto il suo potere, e notate che le barre di aura continuano a salire, non si è bloccato. Ragazzi, probabilmente Zeno ha un'aura infinita, e Goku si è bloccato lì, è rimasto completamente impaurito e bloccato dal potere di Zeno-sama. E addirittura sprigiona una Super Kamehameha. Io, ragazzi, ho paura di fare una Suprema, perché probabilmente, per le statistiche di questo Zeno, Goku fa una brutta fine. Proviamo così, Sinfonia della Distruzione... Oh, Stamina Break! Non ci credo, ragazzi, ci ha fatto un bel Stamina Break! In ogni caso, per fortuna, non cadiamo direttamente fuori dal ring, poiché ci sono delle barriere invisibili. Vediamo se ritorna presto anche il vigore, cosa che a quanto pare non sembra, oh, finalmente! E riproviamo così a colpire direttamente con le combo. Voglio capire di chi è questo moveset. E ragazzi, Goku, diciamo, sta finalmente capendo il potere incredibile che sta sprigionando Zeno, anche se, chiaramente, Zeno sta solo giocando. Non è una vera battaglia, capisce che tutto quello che stanno facendo adesso è un semplice scherzo, quindi sta giocando. Non è una vera battaglia in cui potrà eliminare il suo avversario. Io credo di aver capito di chi è questo moveset. Mi ricorda un personaggio alquanto malvagio di Dragon Ball Super. Vediamo un po'. Qualcosa dovrebbe farvelo capire. Vediamo se riesco... Oh! A teletrasportarmi come si deve? Guardate come riesce in ogni caso a... Non lo so, a scansarsi tutti i nostri colpi. Vai così, Zeno! Adesso sta scatenando tutto il suo potere divino. E vai così, cattivissimo! Mamma mia, ragazzi! E proviamo così. Con questo potere assurdo! Goku riesce a resistere, non ci credo! Vabbè, ragazzi, tanta tanta roba, eh? E devo ammettere che come personaggio Zeno mi sta davvero simpaticissimo. Uno dei personaggi, a mio parere, più riusciti di tutto Dragon Ball Super proprio perché conserva lo stile, praticamente, del nostro carissimo Toriyama con quei personaggi un po' strani. Allora, noi ci andiamo assolutamente a spostare. Vorrei colpire con uno Stamina Break l'avversario. Ed eccoci qua. Goku cade direttamente a terra, anche se il tempo scade. E' chiaro che la battaglia finisce qui. Zeno non vuole assolutamente fare davvero del male a Goku anche se forse, giocando troppo, avrebbe potuto fargli del male. In ogni caso, è andata molto bene ma è qui che Goku ha praticamente un dubbio esistenziale. Vuole assolutamente diventare più forte per diventare almeno minimamente competitivo, appunto, per sfidare Zeno. E' chiaro che Goku, come tutti sappiamo, ha un animo Saiyan quindi vuole sempre migliorarsi, vuole sempre diventare più forte e per questo motivo vuole farsi allenare. Come sappiamo, in Dragon Ball Super Goku si sta allenando con Whis ma non è abbastanza. Questa volta il nostro Goku si allenerà con un altro combattente e stiamo parlando di lui il gran sacerdote, il Daishinkan poiché, come Whis ha fatto da maestro appunto a Goku potrebbe farlo anche costui. Questa divinità così strana il padre di tutti gli angeli che presto vedremo anche in Dragon Ball F piccolo spoiler lo vado assolutamente a scegliere e Goku qui decide di sprigionare ovviamente il potere del Super Saiyan God quindi proviamoci ragazzi andiamo a sfidare direttamente la divinità ed è qui che ci sarà una nuova battaglia l'allenamento per Goku sarà davvero tostissimo non si è mai allenato in maniera così dura e vedremo se il Daishinkan almeno anche a livello di mod è forte, è potente oppure no bisognerà vedere un attimino di chi è il moveset probabilmente è quello di Bills non vorrei sbagliarmi ma almeno l'animazione iniziale era la sua e proviamo un po' a vedere no, forse qualcosina cambia no ragazzi, non mi pare sia di Bills almeno all'apparenza se avete riconosciuto il moveset come sempre intervenite nei commenti proviamo a vedere se riesco a colpirlo vediamo un po' anche qui c'è lo Strike of Revelation bam! e Goku si para notate che già il Super Saiyan God gli permette almeno di potermini ma un po' competere con il Gran Sacerdote anche se è chiaro ragazzi che tutti i poteri che stanno utilizzando sia Zeno che il Gran Sacerdote non sono nemmeno probabilmente l'1% di quello che utilizzerebbero in una vera battaglia quindi andiamo a vedere che succede abbiamo il Death Slash che è una mossa di Zamasu esattamente poi abbiamo il Will Wind Blade che è una mossa credo del Drago Malvagio di ecco di Omega Sharon e poi andiamo con altre combo peccato che il personaggio non abbia nessun tipo di carica potevano mettergli la Divinity Unlashed e invece no oh mi sta colpendo in maniera assurda ragazzi Goku davvero scatenatissimo boom! l'allenamento tra Goku e il Gran Sacerdote dura per davvero tantissimo tempo Goku vuole sempre superare se stesso e di conseguenza l'allenamento dura anni per la precisione ben 10 anni e quindi è qui che Goku può finalmente forse riuscire almeno in parte ad avere la meglio sul Gran Sacerdote lo vedrete però tra pochissimo questo perché per ora si sta ancora concludendo questa battaglia dovete poi prepararvi tra pochissimo quando vedrete il nuovo Goku che sarà il risultato anche dal punto di vista estetico delle grandissime battaglie che ha fatto Goku con il Gran Sacerdote ragazzi Goku come sempre potentissimo e purtroppo l'allenamento finisce qui ma quale sarà il risultato dell'allenamento tra Goku e il Gran Sacerdote preparatevi amici miei poiché come Wiz ha dato dei nuovi abiti appunto a Goku lo stesso ha fatto anche il Gran Sacerdote quindi preparatevi ed ecco qui il nuovo Goku con gli abiti del Gran Sacerdote è una mod davvero incredibile di Feraz come sempre troverete il suo canale così come il suo Patreon in descrizione davvero tanta roba mi piace tantissimo questa mod e ho avuto ecco l'occasione di crearci un bel Wotip a diverse trasformazioni che andremo a vedere nel corso della battaglia e poi anche il Super Saiyan Blood poiché la mod è stata creata proprio nel periodo in cui si parlava di questo nuovo potere del Super Saiyan e non era ancora stato svelato che era l'Ultra Istinto io andrei a scegliere questa primissima forma o forse sì andiamo bene con questa qui in modo tale da fare poi diverse trasformazioni in maniera procedurale mamma mia che paroloni complicati ed eccoci qui con la battaglia dove Goku dovrà davvero dimostrare il proprio potere ed eccoci qui gli abiti sono praticamente identici gli stanno molto bene a Goku chissà se un giorno vedremo davvero una roba del genere in Dragon Ball Super io forse lo escludo però mai dire mai e partiamo subito con un colpo incredibile del Daishinkan niente da fare è riuscito anche a pararsi ci ha scagliati via ma è qui Goku che deve rivelare il suo vero potere quindi mano a mano non appena abbiamo l'aura procederemo anche con le nostre trasformazioni incredibili il potere del Daishinkan è nulla in confronto a quello che potrebbe ottenere Goku in altri che ne so 100 anni di allenamento peccato che Goku non credo possa vivere altri 100 anni in ogni caso andiamo col Super Saiyan quindi già subito andiamo ad esprimere le trasformazioni Saiyan vediamo un po' se riesco a colpirlo più volte vari teletrasporti ma siamo riusciti a svignarcela io direi di andare con uno Stamina Break se riusciamo vediamo se riesco ad avvicinarmi Stamina Break no ci ha interrotti e ci ha fatto una presa giusto in tempo dannato così come tra l'altro chiamano tutti i nemici in Dragon Ball boom Super Saiyan di secondo livello e mano a mano sprigioniamo sempre più potere andiamo così ancora teletrasporto boom no no regà non ci credo si è spostato al momento meno opportuno lo lanciamo via andiamo anche col Super Saiyan di terzo livello e mano a mano Goku sta facendo uno showcase di tutte le sue possibilità di tutti i suoi poteri boom vediamo un po' ah pensavo di riuscire a fare anche l'altra trasformazione niente da fare mi serve una bella carica massima e direi che per ora dovremmo esserci eh vai così boom e andiamo direttamente al Super Saiyan blu quindi ragazzi ci sarà finalmente lo scontro definitivo tra vero e divinità poiché Goku ormai è una divinità Saiyan gli dobbiamo dare un singolo colpo e lo eliminiamo oh ci stava per fare la sinfonia della distruzione ma per fortuna ci ha anche allontanati eh aspetta avviciniamoci ho pronto un ultimo colpo per lui eccolo qui il Super God Feast e si conclude così la battaglia con quest'ultimo colpo di Goku chiaramente il Gran Sacerdote non viene sconfitto ma la cosa positiva è che ha la sua benedizione per poter riaffrontare Zeno dopo quest'ultima battaglia voglio però mostrarvi anche questo Super Saiyan Blood quindi praticamente Goku ottiene degli occhi rossi capelli dello stesso tipo ed è praticamente l'immagine che abbiamo visto molto spesso soprattutto nella sigla di Dragon Ball Super non importa andiamo a sfidare Zeno e vediamo quello che ne esce anche perché inevitabilmente forse l'avete già notato la moda di Zeno ha tutte le statistiche al massimo probabilmente nel giro di qualche colpo ci distruggerà ma non è questo il punto il punto è che Goku vuole superare se stesso e utilizza questo nuovo potere sanguinoso sanguinario non so come si dice e andiamo bah a provare ad eliminare Zeno ha una vita lunghissima ragazzi però noto che nonostante le statistiche elevatissime riusciamo a fargli anche degli stamina break ma soprattutto gli facciamo molti danni ma aspettavo molto di meno Blood Kamehameha quindi mosse assolutamente personalizzate per questo Goku se non sbaglio quella era una burst Kamehameha proviamo a vedere se è così riottenendo magari un altro po' di stamina vado così con la maximum charge purtroppo ci lancia delle sfere di energia ma non importa ma non ha già sti keyblast dammi un attimino di tempo Zeno vedete lui vuole giocare con noi ma noi gli daremo modo di vantarsene vai così ci siamo e proviamo anche con il Kaioken Assault e invece no perché mi ha colpito in pieno ci riprovo ha fatto una parata perfetta ragazzi quindi niente da fare però adesso vorrei provare con una super blood Kamehameha come notate il colore cambia totalmente e lui ci colpisce con uno stamina break davvero un gran peccato non importa ci dobbiamo riprendere vai così riprenditi Goku dimostra di essere degno di Zeno o almeno del gran sacerdote finalmente ci è ritornato quindi il vigore e andiamo a colpire l'avversario boom ma lui fa questa sorta di teletrasporto e bam no stavo per colpirlo niente da fare ragazzi ha praticamente tutte le barre di stamina piene la vita di Zeno non è così altissima quindi Goku potrebbe anche solo sperare di fare qualche altro danno no non ci credo vai così colpisci col super godfist e non ci credo Goku è riuscito a sconfiggere Zeno Zeno ha deciso di farsi sconfiggere da Goku per renderlo felice e questo è quello che fanno gli amici no davvero una mod molto figa complimenti come sempre a Feraz davvero tanta tanta roba ci sta la grandissima quindi sono davvero felice di aver fatto questo motif bello ignorante ma in ogni caso molto particolare è un motif che potrebbe anche chi lo sa forse un giorno prevedere il futuro io me lo auguro e voi? mi raccomando ragazzi iscrivetevi ora al mio canale youtube se non l'avete ancora fatto cliccando qui al centro e guardate altri video del mio canale come ad esempio Dragon Ball AF cliccando sulle miniature che vedete qui a schermo quindi alla prossima ciao ciao